Parlo da appassionata sportiva, da sportiva praticante, sarebbe una grande cosa per chi fa dello sport seriamente avere le olimpiadi, un grandissimo sogno, ma onestamente non ci sono i presupposti a Roma per avere le olimpiadi. Perché però? Non ci sono i presupposti, intanto perché anche il piano che ha fatto il CONI, lasciatemelo dire, è abbastanza approssimativo, perché molte delle strutture che vengono indicate in realtà non sono idonee, e non lo sono. Non sarebbero comunque idonee, quindi già il piano che è previsto, il costo è già in difetto e dovrebbe essere aumentato, e lo sarebbe, perché lo sappiamo, per come sono sempre gestite, sono sempre state gestite, e siamo in Italia, non siamo in Gran Bretagna, dove peraltro anche loro hanno avuto un aumento sconsiderato della spesa. Oggi come oggi le energie su una città come quella di Roma devono essere concentrate nel risolvere l'emergenza dei cittadini, peraltro questa posizione rispetto alle olimpiadi era ben nota, anche prima delle elezioni. Grazie a tutti.